L'Atalanta perde per 3 a 2 contro il Villareale, termina così la sua Champions League, una sconfitta che fa male, che brucia, ma una sconfitta che deve essere condivisa e che va commentata e analizzata, quindi magari vi perdonerete se sarò un po' più lungo, però se non ne parliamo oggi, quando ne parliamo? Così, io adesso do alcuni mie spunti, ma sono molto molto ansioso di leggere anche i vostri. Innanzitutto vorrei indirizzare la conversazione su un tema specifico, ovvero la partita di ieri, perché mischiare il piano della sconfitta con Villareale e dell'uscita della Champions può essere pericoloso, perché l'uscita della Champions è figlia di altre partite, anche di altre partite, in particolare di Berna, del finale con lo United, insomma, quindi non si può caricare tutto lì, per quanto abbia sicuramente inciso. E quindi limitiamoci a parlare della partita di ieri, poi se vogliamo possiamo tranquillamente fare un altro video e commentare quello. La prima cosa che balza all'occhio, secondo me, della partita di ieri è stato l'atteggiamento, l'Atalanta non ha giocato l'Atalanta e la cosa è... secondo me fa pensare, perché onestamente credo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un'Atalanta così blanda, così molle, così fragile. Un'Atalanta che preda l'ansia, dopo tre minuti, è completamente scoperta, a 70 metri dalla porta, perde il pallone e con una verticalizzazione l'attaccante avversario davanti a Musso. Classico atteggiamento di chi col paraocchi vuole dimostrare, vuole al pubblico, sente la pressione e non la riesce a gestire? È un tema che ci portiamo avanti ormai da un anno e mezzo e mi sorprendo che Gasprini non abbia ancora deciso di fare un due o tre minuti di melina a inizio partita, per poter sbollentare, perché non si può spesso volentieri partire con quest'handicap totalmente gratuito. È un tema che ci portiamo avanti da troppo tempo e che meriterebbe davvero di essere argomentato, forse anche una questione di ansie, di prestazioni, di pressioni che vengono messe dall'ambiente quando sono in casa? Non lo so, però qualcosa deve pure essere, perché i dati ci dicono che non è un caso, che non è una tendenza, che non è una roba sporadica, una roba che succede e succede anche spesso. E quel gol è stato un po' come una tempesta che sorprende un veliero nell'oceano, dall'in poi la partita l'Atalanta è stata in balia delle onde, a volte è riuscita a dominarle facendo per esempio il quarto d'ora successivo benino, a volte invece completamente subendo e scomparendo. Però è sempre l'atteggiamento quello che secondo me deve far pensare perché anche una volta rientrata dagli spogliatoi all'inizio del secondo tempo si ripropone lo stesso errore, la stessa cosa, l'Atalanta dovrebbe rientrare rassicurata, galvanizzata, caricata e invece dopo poco o niente si prende il terzo gol. E secondo me qualcosa lì bisogna discutere, tenendo poi presente una roba forse antipatica, però non sarei onesto se non la dicessi, che mercoledì bisognava giocare con l'obbligo di vincere perché non sai quanto può finire Manchester United Young Boys. Ieri si giocava sapendo che comunque come minimo c'era l'Europa League, quindi forse c'erano anche meno pressioni, ma forse è stata proprio l'assenza di pressioni a farci prendere un gracchio. Non lo so, però sarei molto curioso di sentire anche la vostra perché è evidente che la squadra non è scesa con la giusta motivazione e con la giusta tranquillità. Successivamente possiamo parlare delle prestazioni. Ieri altro grave errore di De Miral, giocatore che io reputo molto buono, ma che oggi come oggi probabilmente 28 milioni di riscatto non li vale. È un giocatore che ha delle imperfezioni, come tanti altri. Purtroppo gioca in un ruolo dove l'errore diventa evidente perché sei difensore. Quante volte abbiamo visto Palomino o Toloi combinare guai più o meno simili? Purtroppo quando sei l'ultimo davanti al portiere poi la figuraccia assume toni molto più grandi. È un giocatore su cui bisognerà fare delle riflessioni, è abbastanza evidente, però non mi sento neanche di attribuirgli più demeriti di quelli che poi realmente ha avuto perché di fatto la prestazione è stata brutta, tant'è vero che poi è stato anche sostituito. Allo stesso modo il giocatore che va citato, io qua l'ho citato già più volte, è Pessina. Un giocatore che quest'anno davvero non trova la sua collocazione. E parlo esattamente di collocazione perché secondo me il ragazzo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del gioco c'è. Se ieri quel tacco manda in porta e ci fa segnare, oggi siamo qua a raccontare un'altra roba di Pessina. Il problema è che al netto della giocata che competa il singolo individuo è un giocatore totalmente spaisato. Un giocatore che non dà un reale contributo, quantomeno quello di oggi non dà secondo me un reale contributo alla squadra tenendo conto poi di chi abbiamo fuori. Perché fuori ieri e passiamo dal punto di vista tattico, si è prevedito Pessina, su cui obiettivamente non so quale sia il suo reale apporto, a Marinowski che tira da fuori, a Pasaric che segna, a Muriel che aggredisce la profondità. Quindi Gasperini lì ha fatto una scelta ma non si è ben capito. Io personalmente non riesco a capire quale sia stata poi la ragione. È ovvio che Gasperini ha ragione, io no, perché li vede durante l'allenamento banalmente. Banalmente, perché lui è del mestiere e noi qua siamo solo a fare chiacchiericcio, però io ve la metto lì sul tavolo della conversazione e secondo me è stato un grave errore inserire questo Pessina che oggi, boh, non rende. Alla luce ovviamente di chi avevi in panchina. E allo stesso modo un altro errore statico secondo me abbastanza clamoroso è che alla fine del primo tempo sei sotto di due. Chiaramente fai dei cambi per rimpiazzare quei giocatori che non hanno garantito una prestazione ma praticamente non ti muovi di un millimetro dalla tua idea. Ripetiamo, fuori ci sono tutta una serie di giocatori che possono cambiare le partite. Non ultimo un palleggiatore che ieri poteva fare la differenza. Kube Miners ieri in un controviglia reale che obiettivamente non è che ha fatto chissà che cosa. Trovava qualche modo per arrivare in area di rigore, poi lì la vedeva un po' se la gestiva. Però non è stato un avversario così temibile secondo me, con massimo rispetto ovviamente, però non è che ha sfoderato questo gioco così clamoroso. Secondo me l'inserire un palleggiatore come Kube Miners avrebbe offerto un numero propositato di soluzioni differenti che in verità non sono state assolutamente scelte. E anche lì secondo me due domandine ce le possiamo fare. E poi ovviamente dobbiamo parlare dell'ultimo momento in cui si è vista l'Atalanta vera. È un momento che ovviamente ci conforta da un lato perché comunque, ma credo che nessuno dubiti di questa squadra per quello che stavo facendo in questa stagione, ma che dall'altro ci deve far pensare perché era lì l'Atalanta che conosciamo, non era da qualche altra parte. Ci ha messo quasi 70 minuti a venire fuori, però questo è un argomento che deve essere di discussione. Ma quando è venuta fuori ci ha visto che se avesse avuto 10 minuti in più, un quarto d'ora in più quella partita lì la porti a casa. Il problema è che era troppo tardi, un mai danno era fatto. E questo ultimo scatto d'orgoglio secondo me è proprio la nota amara. Perché se vieni dominato, dici vabbè, più forti. Ma uscire così, sapendo che alla fine potevi giocare senza grandi problemi, boh, causa molta delusione. Non parlo delle note positive perché sono sempre quelle, grande zappante e quant'altro, ma perché oggi bisogna parlare di quello. È inutile andare a addolcire la pillola. ora testa il campionato perché stiamo facendo un gran campionato testa l'Europa League perché anche quella è importante e ci può togliere delle grandi soddisfazioni capita a tutti di perdere dobbiamo parlarne perché è giusto ma non dobbiamo farne un dramma perché ci sono squadre ben più grandi di noi che non vincono da una vita e obiettivamente bisogna farsene una ragione, questo è lo sport vince uno quindi va bene così quindi subito alle spalle però la discussione facciamola con la dovuta serenità e per il resto testa il campionato che lì stiamo facendo grandi cose e come sempre vi invito a restare su talantini.com ciao